Salve a tutti ragazzi, bentornati di nuovo su Stranded Deep Secondo episodio, oggi c'è anche Claudia come potete vedere Con la coperta da nonna E un coglione anche, avvia il gioco Invece di fare il deficiente Prima metta ci sono 4 coglioni Giusto, però te ne abbia 5 con... Allora siamo che stiamo nel del... Allora siamo che stiamo nel del... Allora siamo che stiamo nel del... Siamo che stiamo nel del... Allora siamo che stiamo nel del... Allora siamo che stiamo nel del... Allora il caricamento così ti sa dei giochi tipo... Già sto caricamento la vecchia nel Comodore 64 Sta parlando con lui che gioca ai giochi alto locale Infatti... Non c'è più il cocco volante E' caduto il cocco Andi ma a cercare cosa da prendere Oh... 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 Yooka, è un nuovo tipo di droga La te ha visto che si illumina... No niente, no, 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 ho fatto Che ha fatto, come sono i flashing C'ho fatto... No, 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 ho fatto No, 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 ho fatto Vabbè, P... Vabbè, se ci ha fatto... Che ci hanno fatto... Che c'erano, non ci ha fatto... Che ci devo fare con i poli... All'elfin... Dove? Davanti... ne racconto perché c'è il volume a 3 ma per creare le cose di buttare per terra come per il fuoco a mangiare a tavola a tavola in casa mi sembra più c'è tutti i computer con peso facebook avanti sta lampada che non ti sembra niente allora mettendo la cosa sopra l'altro è creato il colore suono e perciò devi farle a culo le cose perciò metti tutti no io a culo non faccio niente tu a culo ci fai tutto tu ci fai tutto tu ci la vuoi come hobby fa il collaudatore di supposto non gli dare il fuoco a cammino ma perchè ti ho detto metti un po' di pure claudio te lo dice metti un po' no posso fare il colfer e appunto se con questi fai il camper vedi quanto puoi fare che faccio il camper il camper dai aspetta aspetta spunto cosa esce? no lo vedi quando spunto è sto coso coso sto coso cazzo una pietra uno stick ci vuole una palma un bastone no una pietra uno stick eeeh rompia una corda no ma che è il martellino lascia dei finistons non mi rompe le palle nooo dai allora posso allora posso allora posso allora posso ah intanto anche sulla terra dove andiamo si vabbè o aspetta ma dove sei venuta io devo una cosa che finchè la c'è sempre il rumore dell'acqua però finchè la porca va finchè la porca va figlia di puttana figlia di puttana ragazzi ma che cazzo sali 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 non sale perché non sale gira ti vedi domani no tu cammina ma perché mi cazzo solo solo con lo squame no figlia che è stato un doppio senso e il gandone è mangiato quando ci sei sopra uuuuuh ma lui sempre qua è proprio ma io andrei su quella nave assaggiata in maniera molto bella sulla spiaggia si la smetti dai continua ad andare avanti basta basta impennato se peggio dischettino col rumore ahahahahah ahahah Rocco stai a dirlo stai a dirlo stai a dirlo stai a dirlo se non è che è un infarto se non lo dice no la bussola beh no la bussola non la buttare ti serve non tocco sei un grandissimo figlio di papà non cammina non arrivo più no no non mi interessa express un desiderio per fare cosa anche se non lo so per andare dove hai ragione non sai no la bussola non si butta un pesce dove ti mangio? muori? dai prendi il macee no no mi da vita prendi il macee si esatto rompi il culo muori vero? va guarda come scappa cotardo ma non li dai uccidi ok perchè dicevi che è lui che attacca è confuso non sai uccidere è lo sparo figlio di puttana compagerati guarda qua figlio di puttana ma di schiva minchia oma che è uno scuola ninja esiste nel mondo e va in cucciadina ho messo prova ad usare le lascia non è più adatta comunque ma è stacca ti ha mosso fuciti sei morto sono viva sono viva sei ti sta mangiando sono viva sono viva sono viva sono io che sto muotando scorri muoviti che porca puttana c'è sangue scappa che si è si si è eccita si si è eccita si è eccita scappa che si è eccita ho il sangue eccitante ma dove è l'isola? traste la marina dove è Spongebob? Patrick dimmi dove è Spongebob? eh la piantina questo no il cazzo il cazzo il cazzo qua dov'è il mio cazzo? dov'è il mio cazzo? dov'è ora? ho pensato nel diametro no 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 dov'è? dov'è? fare il deficiente prendi con la cazzo di piantino iucca minchia ma l'ho sentito a squala piano allora sono le ore minchia bel cuore 14 e 20 ma che è rotto grazie lo squalo ti ha morso un braccio grazie tra dobbiamo eliminare peso devo buttare la bussola nooo sai perché è la bussola che ti ha peso ma tu chi ti ma perché c'è solo kid vai tu vai tu a mare e la bussola ok bussola no 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 ok bussola ti lascio il comando ti lascio il comando tu coglione c'è lo squalo mi chiamo ma sul fondo a me se si può fare qualcosa ecco dove lo faccio sull'albero ti portate la faccio in acqua no sai lo possiamo fare in acqua prova prova perfetto ora accendi mi chiedi se si accende ha 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 come come abbiamo affrontato le leggi della natura e abbiamo appurato che adesso si troverete in un'isola come tutti i naufraghi dell'isola dei famosi fate il fuoco in acqua che cazzo fai beh li bominiamo in acqua ahahah perchè rimane tipo lo vedi eh il fuoco in acqua anche queste naufraglie ci siamo fumati qualcosa di sbagliato ahahah a forza di tagliare tutte quelle piantine taglia la piantina taglia la piantina lo vedi si parte con tagliare una piantina e si arriva a fare il fuoco sotto acqua ma ti si vedi c'è la luna ma come che non cacca se no è 40 anni che sono in questa isola ma che è la vita proprio a mare l'incidente io l'ho fatta mia stichezza e anche mister club se ne andate a pute beh stiamo a morire ah ma la vita è qua e come si fa la vita non ci parlo più dove blu il cocco bello per fare l'albero ci vuole sempre per fare un letto ci vuon le foglie secondo me per fare le foglie ci vuole l'albero per fare l'albero ci vuole il seme per fare il seme ci vuole il giardiniere no no per fare il giardiniere bisogna dispendersi in un'isola mi sa che comunque io per fare i stick ci vuole un log per fare un log ci vuole un cocco l'albero 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 ma che c***a ma che c***a vai vediamo che viene fuori vediamo che viene fuori vediamo che viene fuori no campfire no party panfroid ma se ancora con le palme si fa e trinta mi dà sempre campfire sono chi io da qua tintarella di luna tintarella colo latte tutto il giorno stai nel letto m***a l'albero c***a c***a le corde si andiamo a fare le corde se no mi sa continuare in aria mi sa che si fa qualcosa secondo me adesso BAD mincata la mamma no ma io se se me devo scrivere no ma non ho capito più sei stick quattro palme e quattro palme allora nelle note no perché se no poi non lo sappiamo più cosa ricorda quanto devono essere obiettivamente vabbè almeno sai come lo devi fare era sloca non lo puoi mettere nel nel tipo nello zaino come lo dite ma che come ho messo a me che è quello di te no bia beh provaci lo pieghi in quattro non lo pre ma sei scema pure tu dici bene è vero è vero che minchiate che faccio il fuoco sotto l'acqua ma no che non mi prendo il letto dentro del pioggia io lo metterò in tasto esatto c'è te cercate se c'è qualcosa in acqua tipo che fa le bollicine che significa che c'è qualcosa sotto acqua granchio l'ho preso viva e continui vai e cerca Spongebob ma direi che continua a camminare anche se l'hai preso per aria e faceva prendi lui non prendi da me esci da sta ma povero granchio mi chiedi non c'è vuoi questo è lo zio obeso di patrick e patrick è un pavino invecchiato perchè non ha coloro mi chiamo sono mike tyson è vero sta cosa la matita gigante qua poco male visto oh sole mio sta in fronte a me oh sole mio oh cocco mio allora su questo letto am inflex ok offerta limitata solo per gli ultimi per pochi giorni ancora 200 euro il singolo 400 il matrimoniale vi diamo pure i guanciali e è l'ultimo giorno di offerta è l'ultimo giorno di offerta è l'ultimo giorno di offerta da 25 anni esatto allora per questo episodio è tutto e insieme a letto vediamo una batteria di pentola da bicicletta una playstation 3 un gommone a color banana a color banana il cocco è un'igola deserta in tutto a solo 89 euro se chiamata entro le due ore allora su letto della eminflex compriamo questo gameplay se di dove è piaciuto mettete mi piace iscrivetevi alla pagina e al canale alla pagina facebook al canale il nostro canale o per il nostro non quello di Claudia che fa schifo Claudia non ce l'è il canale comunque mettete mi piace condividete iscrivetevi soprattutto condividete fate pubblicità commentate qui sotto con qualcosa che possiamo fare che volete consigliarci e niente da salvo no da salvo perchè ho indicato salvo io da salvo Michele da Michele da Michele salvo è una che non sappiamo chi è salita a casa mia è tutto noi ci vediamo al prossimo video ciao ciao mi ha distrutto ciao